Ancora due giorni di tempo prima del calcio d'inizio del derby del Lanfranchi tra Zebre e Benetton Rugby. Ne abbiamo parlato con Luca Bigi, tallonatore della Nazionale Italiana ed ex giocatore del Benetton. Arrivato a Parma lo scorso ottobre dopo aver preso parte alla sua prima edizione della Coppa del Mondo in Giappone. Ciao Luca, quando ti sei avvicinato al rugby e perché? Mi sono avvicinato al rugby grazie a miei due compagni di classe, tuttora grandi amici, che appunto frequentavano il rugby reggio e grazie a loro mi sono avvicinato a questo grande sport che poi dopo è diventato nel tempo, oltre alla mia passione, anche il mio lavoro. E quando hai capito che sarebbe diventata una professione oltre che una passione? Diciamo dal passaggio dal rugby reggio a Via Dana, comunque prima davo una mano nelle attività della famiglia, quindi combinavo il lavoro, lo studio e la passione del rugby. Da quando ho iniziato a diventare una professione a Via Dana, da lì ho provato a farlo come lavoro fino ad oggi. Chi è stato importante nel tuo percorso di crescita? Senz'altro ogni squadra nella quale ho militato mi ha lasciato qualcosa, partendo dalle giovanili ai primi allenatori, un toro, un ragazzo argentino, passando per Via Dana, Phillips allenatore, in Inghilterra a Moretti a Padova, poi passando per Treviso e i quattro anni ultimi che sono stati senz'altro i più consistenti nella formazione. Una parentesi nel club inglese del Richmond, prima di debuttare a vent'anni nel massimo campionato italiano con il rugby reggio. Cosa si dirci su queste esperienze in Inghilterra? Che valore ha avuto per te conoscere da vicino la cultura sportiva e in particolare il rugby britannico? Sì, è stata un'esperienza di vita, oltre che un'esperienza sportiva. Dopo la scuola ho deciso di prendere un anno come esperienza di vita, ho studiato un po' l'inglese, mi sono avvicinato a questo club grazie a un grande amico di Parma e lì ho trovato un ambiente diverso da quello a cui ero abituato, un attaccamento al club, tra l'altro un club molto storico. L'anno in cui ho militato per quella maglia era il 150esimo anno e nella prestagione abbiamo affrontato la partita più antica al mondo, Riccimo contro Black East. È stata un'emozione giocare davanti a 15.000 persone appena a vent'anni uscito dai giovanili, quindi è stata davvero un'emozione. E da lì vivere il rugby nel sud ovest di Londra, dove c'è molta cultura, è stato molto caratteristico per me, quindi è veramente un'esperienza indimenticabile. Nel massimo campionato italiano hai indossato la maglia del rugby reggio, del Viadana e del Petrarca prima di entrare nella rosa del Benetton, con cui hai disputato quattro stagioni e totalizzato 60 presenze e 8 mete. Che ambiente hai trovato a Treviso e come valuti la crescita tecnica che ti ha portato poi nel 2017 ad esordire con la nazionale? Sì, inevitabilmente ho avuto un periodo di assestamento appena arrivato, venendo dall'eccellenza. Poi pian piano ho trovato la mia dimensione, la fiducia in me stesso e negli allenatori in me. Da lì ho trovato un ambiente che sicuramente, guardandomi indietro, mi ha colto a braccia aperte, mi ha permesso di performare e mi ha lasciato tantissimi bei ricordi, come appunto la passata stagione raggiungendo i quarti di finale. E poi ho trovato tanti amici che tuttora sono grandi amici, quindi senz'altro un'esperienza molto positiva. Conosci bene lo spogliatoio del Benetton, avversario delle Zebre questo sabato a Lanfranchi. Qual è il loro maggior punto di forza? Sì, conosco bene la squadra, sicuramente la consistenza, le fasi statiche dal quale appunto inizia tutto il loro gioco. Quindi sì, sappiamo che squadra andremo a affrontare. Con la maia dei Trevigiani sei invece sceso in campo in tre occasioni contro le Zebre, due a Monigo ed una a Lanfranchi. Che avversario hai trovato e cosa ti ha impressionato di più nel gioco delle Zebre? Le Zebre sono sempre state imprevedibili, nel contrattacco soprattutto, quindi nel gioco rotto siamo una squadra molto molto difficile da difendere. Per cui questo è sempre stato un po' il punto di focus che nelle partite contro le Zebre ci ponavamo. È totalizzato 24 caps con gli azzurri che il prossimo primo febbraio apriranno a Cardiff il 6 Nazioni 2020. A breve verrà ufficializzata la lista dei convocati al torneo da parte del nuovo OCT Franco Smith. Che valore ha per voi giocatori questo duplice derby a cavallo del giorno di Natale tra Zebre e Benetton? È un motivo in più per performare bene, perché sappiamo che ci sarà l'allenatore e il nuovo staff a vedere queste partite. Per cui è sempre bello, poi sia amici sia compagni di squadra in nazionale, ma la partita si scende in campo e si pensa a portarla a casa a vincere. Quindi sarà bello e questa sarà sicuramente una motivazione in più. In settimana come avete preparato la partita? Quali sono gli aspetti chiave su cui puntare per far bene contro i Leoni? Dobbiamo essere disciplinati per cercare di non portarli a giocare nel nostro campo e dobbiamo essere reattivi e pronti mentalmente sin dal primo minuto per tutti gli 80. Da parte loro invece che partita ti aspetti? Sicuramente verranno qua con la volontà di imporre il ritmo, di imporre il proprio gioco, con la fisicità, con il pacchetto di avanti e baseranno il loro gioco su questo. Per cui ti aspetti una battaglia in mischia? Senz'altro sarà una battaglia, poi il campo, vediamo le condizioni del tempo, come saranno, ma sarà una battaglia bella da assistere. Ok, allora in bocca al lupo a Luca Bigi e alle Zebre. Crepi, grazie mille, vi aspettiamo a Lanfranchi sabato alle ore 16.